e mi hanno messo il nome Aurora e hanno detto allora qui Aurora ci vuole una fissa perché io ero fissa perché lavoravo, ero disponibile giorno e notte, non era come quelle che erano a casa sua perché quelle che erano a casa sua facevano anche delle ore i suoi lavori di casa lì ci voleva una che era sempre a disposizione e allora ho deciso, ho detto va bene impareremo sono andata a fare un corso di datilografia, abbiamo preso la macchina da scrivere, ho imparato a scrivere a macchina e poi ho incominciato la mia vita piena, facevo la staffetta, facevo la segretaria, facevo tutto quello che c'era da fare andava a Bologna i primi tempi due volte alla settimana circa a prendere armi e munizioni se c'era bisogno ma più che altro ordini nuovi che venivano diciamo dal comando unico e poi dopo si dipendeva c'era il comando unico e poi dopo c'erano tutti gli altri comandi fino ad arrivare alle brigate e ho lavorato continuamente partecipando a delle azioni quando c'era bisogno a dei pedinamenti e facendo un po' tutto questo della brigata diciamo però avevamo poi i posti dove andavamo, i recapiti li chiamavamo dove io andavo a portare la roba per tutti, quelli di Carpi, quelli di Fossoli, quelli di tutta la bassa dove avevamo tutti i nostri partigiani e là io portavo nei recapiti tutta la roba pronta e le staffette andavano poi nei recapiti, le diverse staffette perché ce n'erano diverse perché al comando io ero segretaria ma avevo poi anche due staffette del comando una Carmen, nome di battaglia e una Vera che era una Slava che quelle lì facevano parte al comando della brigata che la lotta partigiana è stata questa, cioè sono stati 14 mesi pieni di tutte queste azioni se non c'erano tutti i giorni, c'erano uno una sera, uno a quell'altro, uno a quell'altro però io ho fatto questo lavoro sempre di continuo se non ero alla macchina da scrivere ero in bicicletta che andavo o là o a Bologna o da una parte o dall'altra ma più o meno è stata sempre una lotta continua di queste cose di queste azioni di morte perché purtroppo le battaglie c'erano i morti ci sono stati, cioè è sempre queste 14 mesi di battaglie